Va bene, 78 pegni e un sogno, dai, un altro, back to back, back to back, non guardo più, così alla cieca Ho guardato, Michiz, ho guardato, c'ha implacabile anche questo, c'ha implacabile anche questo, c'ha implacabile anche lui, mi sono staccato le cuffie E' fortissimo, non è liquidale, ho sbagliato, ho sbagliato, fortissimo Allora, ogni grado è quanto? 20, Michiz, fai un calcolo velocissimo, 1818 diviso 20, vediamo quanti engrammi escono Numero 1, Multimac, Multimac è la mitraglietta, estrazione salere 1 per tutti, no 900? Ok, è corazza, ininfluente Cuspide logora, l'impulsi, ok Sussistenza, estensione di ferro Che è quella della gittata, 90, ok, 90, 90 già è più affrontabile, 900 sono tantini Impatto finito, che è il nuovo cannone portatile? Che non è neanche male, ma non con scivolata calibrata e condensatore elementale F, next Stivali Non mi interessa, grazie Stivali, no Saladin, no Stop it, stop it Marchi, cose, non ci interessano Non mi chiamo DF Manga Shoutout a twitch.tv slash DF Manga Ehm... Scivolata amplificata mulligan Sulla mano ferma? Ferma? Non mi sembra valido Guanti Oh, se la maggior parte di questi ingrammi sono effettivamente armatura Non è neanche complicatissima la questione Estrazione salere 1 per tutti, il stesso roll di prima Next Tuono dell'arconte Che è tipo il secondo che trovo, perché l'altra volta era baggato Vento assassino, sguardo ferreo Ferreo sarebbe... Non c'è agitata Yikes Stivali Camminatore di Rhys Fermi Post jump Post jump Estrazione salere Fanfarone E poi tanti altri perk che Vikius conosce, io no Direi che facciano abbastanza schifo Finalità occlusa? Cecchino? Con Vorpal? Con Vorpal? Salve Hai il mio interesse Impatto finito Vento assassino Occhio del ciclone, no Un'altra Multimac Questa può avere quel perk figo Sguardo ferreo È lui? Sacrificando la gittata Guarda quanta gittata c'ha quest'arma E come non si vergogna Schinieri, magari escono Godroll Anche questi, guarda Finalità occlusa Con surplus Occhio del ciclone Disgusting Impatto Finito Again Vento assassino Uno per tutti Corazza Sti cazzi Multimac Ancora sguardo ferreo È sempre quella Ah vabbè dude Tuono dell'arconte Telemetro e miri istantanea What? Wait Stabilità Velocità di ricarica Quindi non ricarichi mai Praticamente con questi impulsi Cuspide Logora No 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 Io vorrei ricaricare Sinceramente Guanti Elmo La vista Egemone Che può rollare con Vorpal Demori o no E invece questa è rollato con Osmosi E scivolata amplificata Il rimedio dello stoto Che è un pistolino Pog Estrazione salere Bersaglio mobile What? Armatura Next Armatura Next Pistolino Uno mass Con impugnatura Ferrea Guarda quanta stabilità C'ha Però non ricarichi mai La mano ferma Con Holy shit Vento assassino Mi resta un tannia Che è effettivamente forte Multimac Sempre con quel perchi di merda No Però è sempre la stessa Estrazione salere Uno per tutti Tuono dell'arconte Again Con mulligan Impugnatura ferrea Che mi tenca Che cosa? La velocità di ricarica Anche questa non ricarica mai Guanti Pallo ferrea Next Hashtag Marchio Next La vista egemone Che può rollare con Vorpal Ricordiamo per chi non lo sapesse Osmosi Impugnatura brucia ferrea Ok Ciao Torace Next La via d'innanzi Che è l'automatico Che mi ero dimenticato Di questo coso Con Fresi alimentare E multi kill clip Che in pve È una belva Un'altra via d'innanzi Con profanatombe E occhio del ciclone F Multimac Fammi indovinare Estrazione salere E uno per tutti No Elevatore di minacce Sguardo ferreo Che però è quello Che mi tenca la gittata Ma perché esiste Questo perk Su una mitraglietta Fammi capire Ho apparto un mitraglione Adesso Sì esatto Vabbè Un vento assassino e furia Buttalo via Corazza Io Impatto finito Andiamo avanti Cuspide logra Cuspide logra Cuspide logra Scivolata calibrata Uno per tutti Next Guanti Anch'io Cuspide logra Again Manoferma Scivolata calibrata Estensione di ferro Again Manoferma Io Assurdo Ilmo Si fa desiderare Questo pompa Impatto finito E questo impatto finito F Non so da far Oh finalità Occlusa Con powerful Non mi serve Virata Quella del ride Con vorpal Ricordo che può droppare con vorpal Infatti è droppato con vorpal Infatti Fatti Marchio Finalità occlusa Corazza Corazza Impatto finito Ho appena trovato un canone portatile Con nessuna distrazione Non credevo che potesse accadere Questa cosa Cos'è che è quello che ti aumenta Ah no È quello che ti toglie il flinch Cioè riduce il flinch Che schifo Ma che cos'è Next Marchio Oh primo tono dell'arconte Di tutto Il mio spacchettamento È arrivato Guanti Pistolino Pistolino Brutto Pistolino Buttalo via Camminatore di Liss Eh niente Fermi Questo è tipo Charizard Di Frank Scivolata calibrata Vorpal Ok Ti sto ascoltando Calibrata ma schifo È anche Elicoidale Va bene Elicoidale è Piace Elicoidale è god Cioè È leggero Questo saltatore E Vabbè Però Prodicio È buonissimo C'è Kino Non sapevo funzionare Con Miri Stantanea E tiro d'apertura Che comunque C'è sempre Il suo fascino E c'è tipo Gittata al massimo Un altro Again Così stessi Con Autocaricante E d'apertura Che È tipo Il fratello brutto Di quello precedente È È quello storto È il quasimodo Di quello precedente No No Povero quasimodo Elmo Un altro ciocchino Strik di cecchini Con Istantanea E condensatore Elementale Wait Manoferma Che è comunque Un grande classico Molto forte anche adesso Estrazione salere Impugnatura ferrea Guanti Tuono Dell'arconte Again Con preparazione militare E furia Che è tipo Mua PVE Dunque Marchio La via d'innanzi La luna nera The dark side of the moon Monitor impulsi Impugnatura ferrea No 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 Next Ilmo La cuspide logora Quanti impuzzi Che abbiamo trovato Incredibile Camminatore di Riss Fermi Instant F Ah Questo Frenesia alimentare Back to back Estensione di ferro È trovato un altro Oh Estensione di ferro Struzzatore pieno Multimac Caricatore assassino Rivettore di match Ultimo Ultimo pacchettino godrol Ultimo Io ho finito tutto Multimac Again Rivettore di minacce Impugnatura ferrea No 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 Vai via Ilmo Marchio Sto soffrendo Cecchino Che va bene Ne ho trovati un sacco Basta cecchini Surplus Tiro d'apertura Let's go Camminatore di Riss Camminatore di Riss Camminatore di Riss Surplus implacabile What the fuck What the fuck is this Cosa mi è uscito Dai Cosa mi è uscito Sei tutto storto Cosa sei Ok questo è l'unico che è F Proprio subito Questo è proprio Poverino Ilmo Guanti Skinieri Faccio il full set Dai Full set Corazzo Ok no Viste gemone Viste gemone Che può droppare con Vorpal Bravo Impatto finito Un altro bellissimo Cannone portati del 140 Con scivolata E occhio del ciclo Ciao 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 Mi hai perso a occhio A occhio Mi hai niente Non mi hai convinto Gli ultimi Pacchetti Fuck me Skinieri Let's go Guanti No Impulsi Che è molto bello Ma basta anche Anche basta Basta Sguardo ferreo Sto cazzo di perche Finalità Occlusa Che mi tormenta A questo punto Ciao Vorpal Camminatore 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 Camminiamo Con gli skinieri Camminiamo Sì Ma un altro tipo di cammino Pistolino Dude Non credo che accadrà Non credo che accadrà A questo punto E' come E' come nel Percorso dei gorgoni Ci devi credere Ci sto credendo ma Non abbastanza Camminatore Camminatore Ecco L'aveva detto Vicky L'aveva detto Le gorgoni Ci blessano Non lo guardo neanche Guardatelo voi Eh vai vai Non voglio guardare Non voglio guardare Non lo stai Ok Non lo so Premi col destro Però Non guardare Ok vado col destro Penso di essere dentro Penso di essere dentro Eh aspetta c'è il delay Delay Calmi Fortissimo Sì è Fortissimo Holy shit Che schifo Dude Scimata calibrata Implacabile Ancora Ancora Implacabile Adesso Tu spiegami Perché è implacabile È nella loot pool Di questo pompa Che poi Sulla carta è anche Forte come perf Che quello è il problema Ma non sul pompa Dudo Non quando posso avere Quello figo Della gittata figa Hai ragione Hai ragione Dai Possiamo fare il Back to back to back Il Driss Il Driss Il Driss di primi Il Driss di Riss No Ha visto Egemone No Con scioglata amplificata E Vorpal Tra l'altro può Rollare Vorpal Questo 38 pegni Guanti Questo non è più un pegni Non è un grado Questo Mancano due pegni 18 non lo so Però aspetta Le tagli danno pegni Sì Ok abbiamo risolto Vicketts Cuspide Logora Logora Sai che non può uscire Da lì Camilla Pediris Estrazione cialere Estensione di ferro Che è come quello di prima Ma Ok Estrazione cialere Estensione di ferro È actually Simpatico per il pvp Cioè È simpatico per me Non per gli avversari Via dinnanzi No E no A 1320 Droppa Ah perché sono di punta Io Ok Elmo Elmo sarà 1320 Almeno Ultima taglia Mano ferma Peccato Peccato Let's go Schinieri No Tuono dell'arconte Preparazione militare Sguardo ferreo Io mi sono stancato Di sguardo ferreo Sinceramente Schinieri Perché i pegni Mi danno sempre armature Camminatore di ris Guardi te Vai Io non c'ho il coraggio Ok Cerco di Non guardarlo Spero di averlo messo Eh guardo Spero di averlo messo Non guardarlo Ti prego È orribile C'è implacabile C'è implacabile C'è implacabile C'è implacabile E occhio del ciclone Io 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 No io 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 rivolgo i miei peni Ma questo è uno scam Ce l'ho Via d'innanzi No No Abbiamo tipo Cinque Cinque pacchetti Schinieri Male Quattro pacchetti 118 Cuspide Logara Logara Brutta Via Ti prego Viaggiatore Se ci sorvegli da lassù Non il marchio Viaggiatore Non il marchio Non i guanti Sicuramente non i guanti È l'ultimo È l'ultimo pacchetto È l'ultimo in gramma Dai Manoferma Oh no Oh no Almeno non è implacabile Guarda Non è implacabile Oh mecca Non ci voglio Fai una partita di sendardo Per gli ultimi due pegni Va bene Hai ragione Laser on Laser on Laser on 3 pegni Let's go Ultimi 21 pegni C'è ma fa schifo Però è istantanea Fai digitata Calibro ristretto Sono tutto per te ragù Tecnicamente 20 Però tu ce l'hai Molto più forte Multimac Non ci posso credere Avrà anche impugnatura ferrea Ah ci ha preso C'è implacabile Mi percula Non ci credo Non ci vedete Bella Quando uscirà La solo Flawless La ram più inaspettata Del pianeta Soprattutto con me Abbiamo provato In molti modi A travarla Ma non ci siamo riusciti Allora Ma once Perché le guardi appena Cioè ti do il consiglio Tipo Aprile un po' No 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 Uno alla volta Ah devo andare sulla linea È come se Quando fanno gli spacchettamenti Delle carte di pokemon Piano 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 Ah ok Quindi così aggiungi Acqua Il content Il content Quasi 2000 pegni Sempre per quel principio Che vedi Che vedi